ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi daremo vita al circo di arex e il bastatore però prima di andare a sistemare il nostro super sendone iniziamo a chiamarci il censi vado a chiamare il primo eccolo ed ecco a voi anche l'x ragazzi scusatevi ciao ciao ma anche tu sarai buco come me giusto ma certo anche se sono molto letale va bene non ci interessa mettiti laggiù che sarà il nostro primo c'è in sé ok aspetta vado a chiamare il prossimo ok non fare tardi ok eccomi qua triti eccomi ciao triti da quanto tempo ci si vede allora vuoi partecipare al nostro circo ma certo vado a mettervi laggiù insieme ad anche vai a stasera prendi il prossimo ok oh e questi che piacere compri ciao io che non lo farò e deciderò vatti a metterla insieme ad anche ok chissà quanto sarà bello di mettere famoso ok adesso dobbiamo chiamare gli ultimi due circenzi vado ho passato il�ن ecco 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 eccomi ragazzi ci sono ragazzi che ti passi qui vuoi partecipare al nostro cerco aiare scusa storm per partecipare al nostro ciclo ma certo da mettermi in box ed ecco adesso avverrà l'ultimo circense ed ecco il solo e mitico e unico charcus con il suo animale domestico ciao ragazzi ah ma questo sarebbe il tuo cane? questo non è un cane, è un po' greggio vabbè, dai, andiamo a mettere l'altro, ok ok ragazzi, nel prossimo video vi faremo vedere il circo di Alex e il bastatore ciao a tutti, ciao!